Mi abita troppo spesso di discorre le persone, domandammi che è successo, io il pambio è un'espressione. Penso nulla di male, non dicevo di nessuno, parlavo in generale, senza doppio senso alcuno. Ma finisco un po' di niente senza offendere qualche d'uno, che subito si risente, anche se non l'accato nessuno. Sicché te esprimi una osa e subito devi far capire alla persona permalosa ve la intendevi di. Sì, pensa te che fatiaccia, sta sempre a scervellarsi, ne si vede anche in faccia, non si sa come comportassi. Se gli spieghi se intendevi, lui ti diceva così stupito, non c'era bisogno di spiegare, non è mia scema, va capito. D'altra parte va capita, questa gente può chiara, averci l'auscienza pulita, è davvero una cosa rara. Alla fine di queste parole, qualche d'uno si dirà, dice a me, ma che vuole? Nulla adesso, fa per chiacchierà, io lo so qual è il motivo, il perché o la ragione per cui uno si sente corto nel vivo in qualsiasi situazione. Sarà forse come il bimbino che bene un cipolle sta col culo sudicio nel panolino una voglia di ruzza. Grazie.